E' stato presentato in Regione il progetto dal titolo Adolescenza, Devianze Minorili e Media Education su iniziativa del Centro Sportivo Italiano, il Comitato Provinciale dell'Aquila, in collaborazione con la Sported Evans APS. Il progetto di valenza sociale preventiva è patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal COEGOM, dall'Università degli Studi dell'Aquila e dalle diocesi della provincia dell'Aquila. E' un progetto prettamente sociale, la prima volta che facciamo un progetto prettamente sociale che si discosta un po' da quelle che sono abitualmente le attività sportive che svolgiamo, Adolescenza, Devianze Minorili e Media Education. Rivolto agli adolescenti, ai ragazzi a cui teniamo in particolar modo, saranno dei seminari che svolgeremo direttamente all'interno degli istituti scolastici. Saranno sviluppati in tre macro aree, sui sani stili di vita, sulle conseguenze psichiche, fisiche, ma anche penali che possono incorrere i nostri giovani, fino ad arrivare a parlare anche della media education, dell'influenza a volte negative che si hanno attraverso i media, i social. E' un progetto ambizioso che abbiamo sposato sin dall'inizio. Ovviamente i temi della media education e l'attenzione ai ragazzi sono temi che ci appassionano e che declineremo anche nel corso del 2024. Partiamo da questo progetto qui all'Aquila con l'ambizione di poterlo declinare in tutte le province abruzzesi. Somministreremo agli studenti un questionario, una survey che poi diffonderemo alla fine di quest'anno.